Romina Power è senza dubbio una delle donne più importanti e amate dello spettacolo e della musica italiana. La cantante italo-americana è stata negli anni una delle donne più ricercate in Italia ed è stata al centro di ogni tipo di gossip per via della sua storia d'amore con Albano Carrisi. Negli anni sono diventati una coppia non solo nella vita privata, ma anche nel lavoro perché hanno cantato insieme per tantissimo tempo. La storica ex moglie del cantante di Ciellino San Marco, Romina Power, vive in una splendida casa che non ha niente da invidiare alla celebre tenuta di Albano Carrisi. L'artista italo-americano vive in una residenza nel centro della capitale. Se non avete mai visto la sua meravigliosa dimora, resterete senza parole. Romina Power vive in uno dei quartieri più belli di Roma. Diamo un'occhiata a dove si trova. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. Romina Power è stata legata nel corso degli anni al cantante. una dependenza riservata esclusivamente a lei. Ma la cantante ha deciso di comprare una casa tutta sua dopo la rottura con Albano. La casa super chic di Romina si trova in uno dei quartieri storici. Quando Romina Power non è negli Stati Uniti o nel Salento, vive nella capitale in una residenza da sogno. La casa in cui la cantante italo-americana ha scelto di vivere è immersa nello storico quartiere di Trastevere, nel cuore di Roma, e la sua dimora incarna perfettamente la sua personalità, hippie ed elegante. Le stanze sono ricche di toni caldi. Dalle foto che la cantante ha pubblicato sui suoi profili social, la casa di Romina Power sembra molto accogliente e davvero confortevole. Inoltre, c'è una particolarità molto interessante che riguarda la sua bellissima residenza. Per scelta di Romina, parte della casa è diventata propria. Questa decisione di Romina è stata anche oggetto di una interessante intervista rilasciata tempo fa a Domenica in, dove le figlie della cantante, ospiti del programma, hanno raccontato, siamo in albergo, a Roma non abbiamo una casa perché c'è gente che medita nella nostra stanza da letto, e questa è mamma, che si deve ripulire il karma, ha spiegato Christel Carrisi a Mara Venier. Ad ogni modo, la casa di Romina è un riflesso della sua personalità perché è decorata con tonalità luminose e variegate. Tutto sembra essere curato nei dettagli e gli arredi mostrano il buon gusto della cantante. La maggior parte della sua casa non ha colori troppo accesi, come si può capire dai vari post che condivide sui suoi profili social. Da questi scatti, sembra impossibile non accorgersi del fatto che la casa di Romina Power rispecchi così tanto il suo carattere. Romina, infatti, ama indossare abiti molto colorati.